Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene ragazzi, oggi andiamo a vedere le tendenze energetiche per il mese di maggio. Ci sono le tre scelte, la prima è il mazzo nero, la seconda è il mazzo arancione e la terza è il mazzo blu. Se volete scegliere con i segni zodiacali, per la prima scelta abbiamo pesci, toro, vergine e gemelli, per la seconda scelta abbiamo ariete, leone, capricorno e acquario e per la terza scelta abbiamo cancro, bilancio, sagittario e scorpione. Ci vediamo nella vostra lettura. E benvenuti alle persone della prima scelta, se avete scelto in base al segno zodiacale vi ricordo di ascoltare anche l'ascendente. Per capire come unire più oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Ricordate sempre che queste sono comunque letture generiche, devono essere una guida e quindi potrebbe essere che non risuoni tutto. Bene, ok. Partiamo dalla carta dell'eremità. Abbiamo un cavaliere di bastoni, il carro e un otto di pentacoli. Adesso andiamo a vedere il movimento energetico così com'è, poi farò gli esempi per gli occupati, disoccupati e via dicendo. Allora ragazzi, partiamo dall'eremità. Ho come l'idea che nella prima parte di maggio siate un attimino riflessivi, siate cercando di pensare cosa portare avanti, cosa sia meglio per voi, cosa vibra di più per voi all'interno del mondo lavorativo e poi abbiamo questo cavaliere di bastoni che potrebbe rappresentare una persona, una figura, poi lo andiamo a vedere, oppure un vostro diciamo movimento, un vostro potrebbe anche essere uno spostamento considerato il carro, però poi alla fine abbiamo l'otto di pentacoli, quindi diciamo che il lavoro non mancherà. Adesso andiamo a vedere carta per carta, partiamo, ok, abbiamo un 5 di coppe e un 10 di coppe per spiegare l'eremità. Allora ho l'idea che qualcuno possa sentirsi solo all'interno dell'ambiente lavorativo oppure quest'eremita è un modo, un momento di riflessione per capire come essere più completi, che cosa vi manca per raggiungere, perché l'eremita è un 9, ok, quindi la ruota della fortuna è un 10, per cui è un po' come, ok, che cosa mi manca ancora per evolvere, per chiudere questo ciclo, per lasciarmi indietro al passato e l'eremita tenete presente che è una carta che impara dal passato e c'è anche un 5 di coppe che mi rimanda un po' o diciamo ai fallimenti che potreste aver, che pensate di aver subito, di aver, perché io non li vedo mai come fallimenti, per me sono esperienze, cioè è impossibile o comunque molto raro che alla prima prova, diciamo così, si riesca a trovare la propria strada, normalmente ci si deve sbagliare, si deve cambiare una serie di volte e qui è un po' come fare una sorta di riflessione nei confronti del passato. Andiamo a vedere il cavaliere di bastoni. Due di bastoni. Sì, è come se ci fosse un 6 di coppe. Allora, per qualcuno, questo cavaliere di bastoni potrebbe rappresentare un amico, una conoscenza di vecchia data che in un certo momento potreste incontrare e potrebbe farvi dubitare effettivamente o dare una certezza ai dubbi che avevate qui con l'eremita. Andiamo a vedere il carro. L'eremita e 9 di pentacoli. Dunque, credo che maggio sarà un mese, ragazzi, soprattutto riflessivo, dove, allora, con l'eremita potrebbe essere che vi isolerete voi, perché l'eremita non sempre è il sentirsi soli, ma è anche il volersi isolare per fare un po' il punto della situazione, per appunto imparare dal passato, per capire che cosa non vi completa. E qui vi dico, questo cavaliere di bastoni potrebbe essere una persona che vi fa riflettere, che potrebbe appartenere al vostro passato. Non parlo di partner a livello romantici, eh. è più un amico, un cugino, un conoscente di vecchia data, qualcuno anche con cui siete cresciuti insieme, magari. Cavaliere di coppia. Comunque, ho la sensazione che questo momento di introspezione vi porterà a prendere una decisione. Qualcuno potrebbe anche arrivare a fare un'offerta o a ricevere un'offerta di lavoro. Adesso poi andiamo a vedere specificatamente categoria per categoria, però. Allora, qui abbiamo una regina di bastoni e una sacerdotessa. Allora, devo dirvi che se siete in procinto di cambiare o lo state pensando perché dove siete non vi sconquiffera più, sento che questo cavaliere di bastoni potrebbe essere la vostra chiave di volta, la chiave per risolvere il problema. Datemi una carta per i sedi coppe. Non credo, credo che sia più un amico che non un parente. Potrebbe anche essere un parente, ma non stretto. potrebbe essere il figlio del cugino, del fratello, insomma, per capirci. O un parente acquisito. Non so, come la sensazione... Oppure è qualcuno che per voi fa parte della famiglia, ma che in realtà non ha nessun tipo di legame di sangue con voi. c'è comunque un qualche tipo di movimento verso la metà di maggio che vi porta a questo carro e a questo eremita di nuovo. Quindi qui o farete un viaggio o farete... Qui qualcuno visiterà un'azienda, visiterà una nuova realtà e devo dire che ne usciranno delle belle cose, ragazzi, perché qui abbiamo un cavaliere di coppe che potrebbe essere un'offerta. Potreste essere voi a fare questa offerta magari anche al cavaliere di bastoni. Oppure potrebbe essere questa azienda o questo cavaliere di bastoni insomma fare un'offerta a voi. Vi dico questo perché c'è il cavaliere di coppe. Di solito sono comunicazioni, offerte, qualcuno che vi offre qualcosa. E qui abbiamo un nove di pentacoli che mi parla di indipendenza economica. Allora ragazzi, se state cercando di cambiare, vi dico, dopo una fase di riflessione iniziale, qui ci sarà come uno spostamento. Potrebbe anche essere un cambio d'azienda per capirci, ma ho molto forte l'idea che qualcuno deciderà soprattutto per quello che sono le attività autonome. cioè o qualcuno lascerà un'azienda e si aprirà la partita IVA o se avete già la partita IVA ho come la sensazione che andrete verso nuovi territori. Potrebbero essere territori fisici a livello geografico o territori nel senso che magari vi mettete a vendere prodotti che non avete mai venduto che non avete mai trattato. perché c'è un qualche tipo di offerta che arriva un qualche tipo di conoscenza chiacchiera gancio che comunque vi dà la possibilità di lavorare a fine mese. C'è il lavoro c'è la costanza c'è l'attenzione per il dettaglio c'è la visione d'insieme c'è la gestione qualcuno potrebbe anche aumentare il livello del che attualmente ha sul lavoro verso fine maggio vi dico aumentano anche le responsabilità però di conseguenza il soldo è come se ci fosse più come vi posso dire come se foste più in vista verso la fine del mese c'è più movimento rispetto all'inizio dove magari ci si sta studiando e si sta studiando la situazione e come far evolvere la situazione insomma però tutto sommato è un buon mese se siete senza lavoro ragazzi qui ho la sensazione che vi dicano di contattare le persone che già conoscete o che avete conosciuto di non fermarvi solo a quello che sapete fare ma di sperimentarvi di diciamo così rompere un pochettino quelli che sono i vostri limiti le credenze limitanti perché poi credo di non essere bravo o di non sapere come fare o di non riuscire a però è una credenza in realtà se non vi siete mai messi non avete mai provato non potete dire se sì o se no magari riuscite anche bene insomma molte partite che si aprono vi dico molta voglia di fare movimenti fisici viaggi nuovi contatti è un buon mese tutto sommato c'è la possibilità di impostare quello che durerà per diverso tempo secondo me con il carro eh ragazzi andiamo a vedere Osho un consiglio gravame è un 6 di spade parla di credenze limitanti parla di di voler soddisfare gli altri vedete che qui c'è una persona che diciamo dai vestiti si deduce che è un povero è la la classe più bassa che porta sulle proprie spalle qualcun altro che porta sulle proprie spalle un galletto quindi non si sa bene non si capisce bene dove si va perché la direzione la dà il gallo però la persona sotto ha il peso di tutti quelli che gli sono sopra se foste persone che hanno un certo ruolo un certo grado a livello lavorativo il gravame è di quelli sotto ovviamente cioè magari avete qualcuno che vi sta col fiato sul collo il vostro capo per esempio ma siete responsabili per le persone che avete sotto e qui sento ragazzi che se fosse un cambio di lavoro è in meglio è un aumento di livello se fosse un cambio d'azienda anche è un po' come se vi trasformassi in un punto di riferimento alla fine del mese ok bene spero che la lettura vi sia stata di ispirazione che vi abbia dato insomma qualche spunto interessante fatemelo sapere nei commenti per sostenere il canale potete iscrivervi condividere il video o mettere like io vi ringrazio di essere stati qui con me vi auguro il meglio e ci vediamo nei prossimi video ciao ciao benvenute le persone della seconda scelta andiamo a vedere anche per voi come sarà lavorativamente parlando il mese di maggio ragazzi vi ricordo che molte volte risuona di più l'ascendente piuttosto che il segno zodiacale io vi consiglio di ascoltarli tutti e due e poi di mettere insieme i due eroscopi come fare a metterli insieme lo spiego nella guida che trovate sotto nella descrizione del video in descrizione trovate anche le previsioni per il 2024 e i corsi gratuiti presenti sul canale bene io vi dirò quella che è l'energia più importante all'inizio dopodiché andrò a fare i vari esempi nel caso foste disoccupati occupati oppure lavoratori autonomi allora abbiamo un matto un 9 di coppe un 3 di coppe e un 10 di spade bene ragazzi molto bene allora partiamo da questo matto è un nuovo inizio è una spinta è un momento di cambio è questo impulso energetico potrebbero anche essere delle nuove idee per qualcuno per dei nuovi progetti magari è proprio un nuovo progetto che parte e tra il 9 di coppe e il 3 di coppe devo dire che porterà i suoi frutti sento che ci sarà come una sorta di appagamento emotivo principalmente il denaro adesso non lo vedo tanto ma vediamo dopo se rende altre carte e poi abbiamo anche questo 10 di spade che essendo alla fine della lettura non va male ok va bene partiamo con questo matto la forza questa qua si è fermata così guardate la lascio qua forza mondo vediamo questa e 5 dipendita è interessante perché abbiamo il mondo nel senso che si chiude un ciclo e con il matto se ne apre un altro però queste due carte non so ragazzi mi fanno pensare che o non abbiate tanta voglia o non abbiate tanta forza o non abbiate tanta spinta tanto stimolo magari c'è l'idea c'è questo nuovo progetto col 5 di pentacoli potrebbe anche essere una mancanza di risorse o una mancanza di tempo andiamo a vedere il 9 di coppe giustizia regina di coppe e fante di spade allora devo dire che verso la metà di maggio ragazzi potrebbero entrare degli accordi dei contratti interessanti c'è un fante di spade insieme alla giustizia quindi fate sempre attenzione a controllare tutti i fogli tutti i documenti che siano in ordine andiamo a vedere il 3 di coppe 8 di coppe e papà anche qui cerimonie contratti cioè con un 8 di coppe si potrebbe mi viene da dire ragazzi cercare il lato più spirituale all'interno del lavoro del vostro lavoro adesso vado poi anche per i disoccupati e tutto quanto però è come se ci fosse o un contratto e poi un aumento di livello potreste o trovare una guida o diventare una guida con il papa magari potreste iniziare a trovare un lavoro dove vi spostate spesso andiamo a vedere il 10 di spade abbiamo un 2 di spade un 7 di spade date un'altra carta per il 7 6 di coppe allora ragazzi se siete disoccupati qui ci potrebbe essere un nuovo inizio un nuovo contratto con la carta della giustizia di solito sono contratti duraturi ok ci potrebbe anche proprio essere un nuovo ruolo magari è una cosa che non avete mai fatto come vi dicevo prima potrebbe esserci da spostarsi tanto per svolgere il lavoro oppure per recarsi al lavoro è come se ci fossero dei viaggi veloci ma frequenti devo dire però che verso la fine di maggio tutte queste spade da un lato c'è come la fine dei giochi il togliersi la benda per quello che riguarda un vecchio sogno una vecchia relazione il sette di spade è una carta che può parlare di tante cose in questo caso sento che parla un po' delle maschere che uno probabilmente si è messo con questo due di spade il due di spade di solito è una donna bendata come se si guardasse dentro e non si riuscisse a guardare fuori cioè si vede solo una parte no il sette di spade è un po' una carta che parla di qualcuno che si racconta o racconta di tutto pur di accontentare l'ego in realtà è come se ci fosse qualche cosa che viene fuori qualche bugia che vi siete raccontati o cose per lo stile fate attenzione perché con i cinque di pentacoli e il sette di spade ci potrebbero essere dei furti o delle perdite di denaro nel senso che magari vi cascano 20 euro del portafoglio piuttosto che dovete perdere tempo siccome il tempo è denaro insomma oppure potrebbero esserci anche degli investimenti fuori programma vi dico non sento una cosa diciamo cioè come vi posso dire che vi porti fuori budget che vi destabilizzi anche perché con questo tradicopio devo dire che i vostri risultati li raccoglierete arrivano ripeto contratti però ecco controllate bene perché avete il sette di spade avete il fante di spade il fante di spade è colui che osserva tutto nel dettaglio ok va bene l'entusiasmo va bene festeggiare va bene sentirsi appagati però c'è come da rimanere vigili sui pezzi di carta se state aspettando qualche sblocco con la carta della giustizia arriva il papa per qualcuno se state aspettando un aiuto dall'esterno potrebbe essere proprio quell'aiuto esterno nel caso siate autonomi ragazzi devo dire che come si inizia una sorta di nuovo capitolo sono curioso poi di andare a vedere di andare a vedere giugno però ho come l'idea che inizi un nuovo periodo come se ci fosse la fine di tutte queste insicurezze di tutte queste romanticizzazioni di qualche cosa perché il 6 di coppe parla di sì amore romantico ma anche un po' tutto quello che è il romanticizzare certe idee certi sogni per qualcuno ragazzi potrebbe arrivare o come l'idea del lavoro come se fosse la missione della vostra vita come se fosse ah ok ho capito qual è lo scopo della mia vita è un po' come il tramutarsi il trasformarsi in questo papa in questa guida sento che qualcuno potrebbe veramente diventare una guida sia di tipo spirituale ma non so perché sento i bambini ho come l'idea che qualcuno potrebbe aprire qualche gruppo qualche laboratorio qualche cosa che ha a che vedere con i bambini va bene andiamo a vedere Osho che consiglio vi da wow pienezza e noi siamo il mondo che sono un 1 e un 10 carta di inizio ciclo carta di fine ciclo e questo è un asso di denari sì ragazzi un nuovo inizio è un nuovo percorso sento questo è un 10 di denari e sento come se fosse un nuovo inizio verso una nuova famiglia e giustamente potrebbe essere una famiglia spirituale di cui voi siete la guida o all'interno della quale voi troverete una guida sento che molti parteciperanno a un progetto di gruppo come l'inizio di una nuova fase e comunque vi dico qui avete due 10 è come se ci fosse una sorta e anche il mondo c'è un inizio e un completamento nel mese di maggio se siete lavoratori dipendenti vi dico che ci sarà qualche tipo di riconoscimento per qualcuno potrebbero arrivare anche dei soldi non per molti però è più un riconoscimento affettivo potrebbe essere che qualcuno vi faccia un regalo per ringraziarvi di qualcosa sento abbondanza emotiva pienezza qui anche lo dice in quello che fate a livello lavorativo tenete sotto occhio le carte perché quasi sicuramente avrete dei nuovi contratti avete qualche cosa da firmare qualche nuovo lavoro magari se volete cambiare avete chiuso quello vecchio e volete iniziare qualche cosa di nuovo per qualcuno potrebbe essere anche questo nuovo progetto che parte insieme ad altre persone sento che c'è pagamento le cose vanno diciamo di bene in meglio mi verrebbe da dire c'è questo cambio c'è questa fine ma non la sento poi neanche così tanto dolorosa sinceramente sì beh chiaramente qualche cosa bisogna lasciare indietro ogni cambio crea un distacco quindi c'è un minimo di sofferenza però guardate è per il meglio ok bene cari amici spero di avervi ispirato con questa lettura di avervi un po' insomma rincuorato fatemelo sapere nei commenti per sostenere il canale potete mettere like iscrivervi o condividere il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me vi basterà abbonarvi al canale io vi abbraccio e ci vediamo nei prossimi video ciao ciao e benvenute le persone del terzo gruppo anche per voi andiamo a vedere i movimenti energetici per il mese di maggio vi ricordo che le letture sono generiche sono per un collettivo quindi è facile che non risuoni tutto vi consiglio di ascoltare almeno anche l'ascendente e poi di integrare le letture come integrare le letture lo spiego nella guida di cui trovate il link sotto in descrizione sempre in descrizione trovate anche il link alle previsioni del 2024 e ai corsi gratuiti presenti sul canale bene ragazzi io andrò dicendo l'energia diciamo più importante del periodo di movimenti energetici e dopo andrò a fare vari esempi per occupati disoccupati e autonomi bene andiamo a vedere qual è il movimento allora abbiamo un 5 di coppe il carro che interessante la torre è un 2 di bastoni ragazzi periodo periodo dinamico direi allora partiamo da questo 5 di coppe che secondo me io allora sapete che quello che sento dico ovviamente non risuonerà per tutti ovviamente non vi fate condizionare troppo oppure potete prendere quello che vi dico come un invito a muovervi prima del tempo però sento aria di licenziamento non so se siete voi che vi volete licenziare se è l'azienda che in qualche modo sta cercando di farvi fuori però ho sentito proprio quella parola anche perché poi vedo il carro quindi è un movimento una scelta e con la torre c'è la rottura di certi equilibri effettivamente potrebbe anche semplicemente essere un cambio potrebbe essere magari un bisticcio con un cliente quindi perdete un solo cliente ok adesso andiamo a vederlo con i miniterocchi andiamo a vedere questo 5 di coppe regina di pentacoli fante di coppe 10 di pentacoli allora qui come l'idea che potrebbe arrivarvi un'offerta da parte di una donna potrebbe essere ragazzi da parte di una persona importante o per aiutarvi ad uscire da questa sensazione di tristezza di questo 5 di coppe o magari è cioè semplicemente vi arriva un'offerta più importante più allettante anche proprio economicamente e quindi decidete di licenziarvi dal vostro vecchio lavoro fate attenzione perché con il fante di coppe molte volte sono sembrano offerte grandiose ma poi alla fine di quell'offerta si concretizza poco andiamo a vedere il carro e si ragazzi qui è proprio la sensazione che qualcuno chiuda una tappa della propria vita c'è il mondo c'è come un completamento ci potrebbe essere proprio un trasferimento verso metà maggio un cambio anche di residenza proprio per qualcuno un cambio di azienda andiamo a vedere la torre carro un'altra volta quindi sì c'è proprio un movimento è uno spostamento e diavolo datemi un'altra carta per questo diavolo 7 di pentacoli come la sensazione che questo nuovo cambio vi dicevano all'inizio che la proposta sembra essere allettante però forse non lo è poi così tanto per quello che a fine mese avrete dei dubbi c'è come una sorta di difficoltà a vedere il risultato di difficoltà a mettere in pratica cioè qui addirittura rischiate di spostarvi e poi di non riuscire a far partire il progetto o questo nuovo lavoro quindi magari fate i vostri conti prima del tipo pre-contratto o cose per lo stile perché ho come la sensazione che i risultati potrebbero o comunque diciamo questo movimento potrebbe far fatica ad evolvere quando c'è il diavolo c'è sempre un qualche tipo di schiavitù che comunque è volontaria perché siamo noi che vogliamo rimanere in quella situazione potrebbe esserci anche qualche tipo di condizionamento o molte volte io lo associo a della rabbia repressa e qua quando ho visto questo gruppo di carte ho come la sensazione che qualcuno prenda un po' al balzo il carpe diem di questa offerta per andarsene da dov'è però poi in realtà non so se facciano affare valutate tutto sempre bene ragazzi se dovete cambiare azienda cercate e siete magari autonomi cercate di conoscere meglio le persone con cui andrete a collaborare anche proprio attraverso un caffè cioè nella vita privata sapere cosa fanno come si comportano cose di questo genere allora il 2 di bastoni è spiegato da un 6 di spade le credenze limitanti i problemi da lasciarsi al passato e un 4 di spade con le remita qui c'è proprio un distanziamento da dover creare o per quello che riguarda certi idee che vi eravate fatti o che vi avevano messi in testa oppure potrebbe essere proprio una questione di ok cambio il punto di vista di una certa situazione di me stesso me stessa del tipo di lavoro tenete presente che quando c'è il diavolo ci sono questioni di ego quindi l'ego potrebbe essere quello che io voglio che non è sempre detto che sia quello che diciamo l'universo pensa noi abbiamo bisogno per evolvere quindi non sempre le cose collimano però qui ed è anche una carta non ci sono molti denari in effetti a parte qui all'inizio però è come se questa prospettiva di un miglior posto di un miglior ruolo di un miglior stipendio vi faccia prendere una scelta forse un po' troppo azzardata e quindi poi tendete a sentirvi vincolati potrebbe anche essere un contratto di esclusiva che poi vi fa sentire vincolati allora se siete disoccupati ragazzi devo dirvi che con i 10 di pentacoli potrebbe arrivare un lavoro anche con un contratto potrebbe essere un lavoro dove vi dovrete muovere tanto sento tanto sbattimento tanti movimenti tanti viaggi come si dice un lavoro come driver come padroncino piuttosto che consegnare certe cose o andare c'è da camminare c'è da spostarsi da fare anche i chilometri in macchina sento per molte persone si tratta proprio di spostamenti geografici importanti però devo dire che gli equilibri che avevate prima cambieranno ma sarete un po' condizionati dal nuovo ritmo secondo me potrebbe anche essere che non fosse quello che voi volevate e che quindi ad un certo punto vi arrabbierete però ecco qui è un po' come se vi dicessero di prenderla più con calma di fare un'introspezione di cercare di capire che credenze siete attaccate a che cosa vi faccio un esempio tipo ci sono delle persone che hanno bisogno di vedere subito il risultato qui in questa lettura subito scordatevelo sento che il risultato arriva ma è questione di pazienza è questione di tempo è come se fosse un lavoro un qualche cosa dove bisogna lavorare giorno dopo giorno passo dopo passo con costanza continuando a muoversi continuando a far pubblicità continuando a farsi vedere e qui il dubbio del ma funzionerà oppure no viene un po' diciamo calmato dal rivedere le vostre credenze quello che a voi dà certezza perché in questo lavoro sento che le certezze che avevate prima verranno un po' rimescolate ok ragazzi andiamo a vedere con Osho un consiglio in più ah no scusate se siete occupati devo dirvi che potrebbe esserci un trasferimento un movimento aziendale per qualcuno può essere un cambio da un'azienda all'altra ma non sento che sentirete che farete un affare cioè è come se agli inizi avrete un po' la sensazione di essere caduti dalla padella alla brace però qui è anche un po' il chiedersimo che cosa mi aspetto cioè vi invito a fare un certo tipo di riflessione se siete vi faccio un esempio sciocco in un ambiente lavorativo di fabbrica dove magari ci sono tensioni tra colleghi fate i turni è stancante è un lavoro che non dà nessun tipo di soddisfazione perché magari siete pure in catena di montaggio e volete cambiare lavoro perché lì non siete più contenti non vi soddisfo più ma cercate in un'altra fabbrica qui il senso di queste carte è che alla fine cambiate l'intorno ma la situazione è la stessa quindi cambiate un po' la vostra idea su che cosa vi aspettate a parità di situazione di diverso sarebbe meglio capire che cose più in linea con voi datemi un'altra carta per questa serenità temperanza guarigione che è l'arcano maggiore del quadro di spade qui secondo me dovete iniziare a lasciare indietro ho tanti riferimenti alle sicurezze sapete ci sono persone che pensano che avere il lavoro fisso dà sicurezza finanziaria il che da un lato può essere vero ma dà anche sempre un certo limite finanziario cioè per quanto io lavori di più lo stipendio aumenta però aumenta di poco quindi è come ok io ho bisogno sento questa necessità della sicurezza finanziaria che mi può dare un lavoro fisso ma mi dà sempre solo quello non ho modo di alzare il livello più di tanto quindi di che cosa ho bisogno io realmente per sentirmi sicuro finanziariamente che cosa è in linea con me qual è la mia verità letteralmente che cosa posso imparare dal passato per portare in equilibrio guardate la carta della temperanza è una carta che parla anche tanto di arti quindi pitturare scusate dipingere pitturare forse più non lo so lo sento più da in bianchino comunque dipingere creare potrebbe essere danzare potrebbe essere suonare qualche tipo di strumento creare qualche opera d'arte magari con degli elementi presi dalla natura con dei sassi dei rami e come un po' ritornare alla parte creativa e anche a madre terra e qui mi viene da dire che avete bisogno di ritornare un pochettino al centro per capire che cose effettivamente voi rende stabili o mi viene da dire anche per cambiare il paradigma che state vivendo perché quello che state vivendo vi condiziona quindi qui c'è bisogno di fare un restyling mentale per trovare il vostro equilibrio quello che vi fa star bene sento tanto ragazzi che è come se fosse una sorta di momento di trampolino di lancio per farvi cambiare stile di vita nei prossimi mesi sapete che c'è anche giove congiunto aurano verso fine aprile il 20 mi pare che innesca un po' un cambio di visione della nostra realtà su come ci guadagniamo da vivere ecco questo sento che è l'inizio sento che come se fosse un po' un ok aspetto un attimo ma è quello che voglio fare io è come voglio passare i prossimi 5 10 15 anni della mia vita così inizierete a farvi come delle domande wow periodo molto interessante fatemi sapere poi nei commenti se vi vibra andiamo a vedere spero di averli detti tutti dipendenti hanno forse gli autonomi eh sì gli autonomi vi muoverete tanto sento che vi sbatterete veramente tanto a livello di movimento per il lavoro e anche qui voi vi chiederete se è un po' il caso di rivedere le cose in effetti viene fuori la carta del ribelle che è la carta dell'imperatore ma in questo mazzo specifico ragazzi rompe le catene rompe le regole a cui è stato abituato e qui vediamo la torre ancora una carta da parte di Osho il fulmine di nuovo la torre ragazzi si tratta di rompere gli schemi di rompere l'ideale che avete di sicurezza di stabilità di concretezza di lavoro fisso o di quello che vi può rendere mi verrebbe da dire felici molte volte non è importante avere uno stipendio fisso tutti i mesi perché comunque con la mente si crea quindi se voi avete la credenza che lo stipendio fisso vi dà stabilità in quel mood andrete vivendo se invece iniziate a pensare che lo stipendio diciamo come ve la posso formulare quello che dà garanzia concretezza stabilità è guadagnare abbastanza da poter soddisfare tutti i miei bisogni quindi senza mettere un limite allo stipendio fisso che alla fine sono sempre quelli ok però entrare un po' nel flusso dell'abbondanza quindi ok mi affido il ribelle io qui sento tanti autonomi sento tanti autonomi che rivoluzzeranno rivoluzioneranno un pochettino il loro modo di vedere le cose si tratta di rompere gli schemi di fare qualche cosa di azzardato di avventurarsi in qualche cosa magari che non avete mai venduto in un servizio che non avete mai fatto non sento tanto lo studio ma più che tutto tirare fuori qualche vostra dote dal passato o rivalutare qualche vostro dono qualche progetto passato e riportarlo a galla ok bene ragazzi spero che la lettura vi sia stata di ispirazione fatemelo sapere con un like nei commenti potete anche condividere il video o iscrivervi per sostenere il canale e se volete iniziare un percorso di crescita con me vi basta abbonarvi al canale io vi ringrazio di essere stati qui con me vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video ciao ciao